Ciao ragazzi! Eccoci qua! Nuovo video! Happy birthday to Nancy Happy birthday to Nancy Happy birthday to Nancy Happy birthday my dance with their lonely Nancy Happy birthday to you Yeah! Amuri! Ehi non mi baci amuri! Facciamoci! Amore! Io la voglio bene a questa mia schiava Evviva! Ma come ti metti? Mettiti qua sopra guarda Ehi... No! Vieni voglio dare in baci Vieni voglio dare in baci Vieni voglio dare in baci Ecco qua, così facciamo come si c'è la notizia è stato il compleanno di Nancy e infatti in tante tante ti hanno chiesto, volevano il video dei regali volevo ringraziare tutti gli auguri che mi avete fatto su Instagram grazie mille, siete state gentilissime lei ha tante follower su Instagram seguite a Nancy su Instagram Nancy Amara trattino basso se la volete seguire e lei ha avuto tanti auguri anche sul mio profilo abbiamo messo la foto ha avuto tanti e quindi sono qua a schiattare a vedere i suoi regali e a schiattare perché li vorrei anche io ma vabbè qualcosa mi ruberò è vero a fine video? no, per nulla dai iniziamo sono tanti regali ho visto e ho avuto tante cose Stradivarius questo blu è Stradivarius allora questo pantalone bellissimo push up guardate come è carino un blu chiaro per me è chiaro molto aderente e stretto che ti fa risaltare tutto il culetto si è push up wow push up con quattro V push up e poi sopra questa magliettina qua per andare in galera che non possiedo maglia a righello no, infatti, è vero guardate come è carina sotto che c'è la usanna no, sotto si fa il nodo praticamente la stretta e ci fa il nodo sopra oh, carina non è tipo corta in vita sì, corta in vita quindi se fa sto pantalone mi piace magari ti esce un lembo di pancia no, no, no assolutamente non esce la pancia da fnami per nulla non scherziamo poi sempre da stradivarius questa magliettina guardate com'è bella questa è l'ultima moda cioè ora si riportano di nuovo queste magliettine qui con la spalla da fuori bella queste mi piacciono molto a me cioè praticamente tu c'hai l'effetto a bacca quindi con la spalla da fuori però comunque è una t-shirt ed è anche un po' cortina sì, carina però senti che mi arriva sull'ombelico beh, questa la voglio te la va a comprare la nostra di Maris ma, carina troppo carina se non avete le spalle molto grandi ve le mette risate poi ho un bel tessuto anche sì, sì, è fresco ho avuto regalato questa altra maglietta russa guardate, è un carino che semplice bellissima queste cose semplici come piacciono sempre con lo scollo a bacca mi piace perché è particolare è tipo questa però a mezzemani diciamo belle cose c'è a Stradivarius sì, sì devo andarci anche e mi faccio un autoregalo e poi questa canotta qui rosa molto clara che ho pensato potrei usarla per la palestra date un'embarca rosa pastello sì molto bel colore shabby chic bellissimo poi altro regalo Riojo mamma mia io amo le borse vediamo quando sta ci sarà mai quindi è la borsa wow bella sta borsa bel colore belce tipo sì belce fango un po' chiara guardate bellina carinissima con tutte le cose dorate molto bella il colore è molto versatile questo è bella guarda ci sono vari sconsantimenti bella ragazzi mettete un pollice su se pensate che Nancy mi debba regalare qualcosa no è detto che faccio cose da nonnina c'ho stile nonnina ma questa però è nonnina rock perché c'ha le cose tutte dorate mi piace oh fan oh fan mi manco sempre male quando vedo questi regali tuoi questi regali tuoi finora ci piace tutto è vero Bubi? poi queste ma non mi dire non mi dire sono quello che pensa sono quello che pensa le nuove adidas non mi dire e sono mie no regalo solo per me e non me le copiare come l'anno scorso che mi copiavo tutti i miei regali io me le guardo oh oddio sono proprio quelle che voglio io andate su te stanno queste qui con le righe argentate sono troppo belle ragazze le volevo da una vita ma se non mi sbaglio queste ci stanno anche con le righe dorate con le righe dorate con le righe fucsia rosse tutti i colori ma no le vorrei con le righe dorate perché queste sono versate argentate le voglio troppo ma che me ne frega questo mio regalo non ce la fai meno male che non le vuoi di questo colore ma non è che sono bene il dettaglio anche qui è argentato sono bellissime sono le nuove adidas superstar è vero? yeah me la facciamo un bravo ma no che padre però ragazzi fatemi sapere nei commenti ma anche con le righe dorate mi vedevo da comprare ho ricevuto per regalo anche questi ragazzi occhiali da sole ma com'è bello quest'astuzzo andate con il farino rosa rosa shabby ma non puoi regalare la stessa? ma no mi sento a parte di gli occhiali come faccio regalato? è tipo di paglia ed è rosa shabby chic mi piace tantissimo si fa così non lo puoi regalare di prego? no perché fa parte del pacchetto non regalo ovviamente tutto non posso regalare e poi il porto occhiali che belli questi occhiali mi piacciono? oh li stanno benissimo perché hanno questo qua tutto c'è la piazza ah rosa oro rosa rosa oro rosa rosa oro rosa tutti stanno bene è bella poi vuoi definire il regalo più atteso? il regalo di mia sorella è baro che regalo che ho fatto? facciamo vedere questa canotta troppo carina della night spormellina ti hai fatto vedere la prima la cosa più semplice basta la rovescia oh no ah no no ah perché così è perché io ce l'avevo una nera con la b fucsia a lei piaceva e così gliel'ho regalata arancio che secondo me sta molto bene perché lei è bruna e fa saltare la bronzatura il colore scuro ed è molto bella perché comunque è un tessuto che non fa sudare è molto fresco e poi è sinuosa è sinuosa sul corpo molto bellina e mi piace molto questa qua della night a te piaceva la mia e io te l'ho comprata hai visto come sono brava? però a me è più bella vediamo che cosa ha fatto e poi pezzo grosso scarpe della night night scarpe della palestra queste te le ho comprate perché secondo me le tue scarpe della palestra facevano schifo se ne avevo bobinate ce lo danni erano anni che le usavi ha detto no sembra una stracciona e gli ho regato guardate se non sono belle queste scarpe sono troppo belle ragazzi sono piaciute le ho volute prendere questo colore è un viola proprio bello sgargiante acceso molto estivo secondo me è bello il tessuto è proprio estivo guardate è freschissimo lei usa sempre leggings neri questo nero ho detto almeno ti dai una botta di vita con le scarpe colorate le sono piaciute poi sono comode sono leggere comode sembra di stare sulla cia c'è anche un po' di rialzo che comunque secondo me le scarpe per chi fa palestra per chi fa sport io compro quelle della night che vado sul sicuro perché sono buone e durano anni e pure per la schiena stai in una corretta postura quindi ti ho spiso ti piacciono un po' di soldi ma sono contenta che ti piacciono ragazzi mi piacciono sono belle fai a bravo se non me le riprendo a te ti piace fucsia questi sono viola no no mi piace pure questo perché è un viola è un viola molto acceso e allegro non è un viola cupo che porta sfiga no no queste portano fortuna bellissime ragazzi mi piacciono sì e questo è tutto e questo è tutto anche se mi manca ancora un altro regalo è vero che devi avere però ci vedono ancora qualche giorno e poi avrai questa stazione è arrivata in America è un regalo che devi avere più in America perché fai la cretina deve avere ancora un altro regalo però non è che non ve l'ha voluto far vedere ma arriverà ancora qualche giorno ve lo farò vedere anche quest'altro regalo quindi questo è tutto speriamo che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciateci tanti pollici in su e noi vuoi copriare a me vuoi copriare a me e viva ciao auguri ciao buon baci aiuto ciao 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 ciao